Archiviata la pratica di emodinamica con la cancellazione dell'accorpamento del reparto dell'ospedale veneziale al Cardarelli di Campobasso, adesso Esernia si spinge affinché vengano potenziati gli altri comparti del nosocomio. Emilio Izzo, portavoce di Inseno al problema, dopo aver risultato per l'apertura di emodinamica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rilancia l'invito a visitare il veneziale al presidente della regione Francesco Roberti e al direttore generale Asrem Giovanni Di Santo. Sono ancora tanti i problemi che vanno risolti e Izzo chiede un incontro con i due esponenti della regione. Certamente io vorrò che loro si facciano una passeggiata qui innanzitutto per vedere come stanno le altre situazioni. Noi rivolremmo anche quel centro senologico che era un punto focale dell'ospedale Isenia, magari riportare qui la dottoressa Scarabè e Rispoli. Vorremmo un controllo sulle cose che dicevamo prima ma farci una passeggiata per capire insieme come si può migliorare. Del resto, insomma, sono delle passeggiate fatte altrove perché non farle se ne colgo l'occasione. Ovviamente l'ho fatto anche già pubblicamente per ringraziare il presidente Roberti per aver mantenuto la parola su emodinamica. Ma, presidente, dobbiamo fare un sopralluogo per capire altre emergenze perché Isernia merita questa attenzione, perché Isernia copre un'intera provincia e anche fuori provincia. Ecco, altre situazioni sul campo perché in realtà il problema non è soltanto emodinamica. Il Veneziale ha diversi problemi che vanno risolti. Sicuramente la rete di emergenza e urgenza con emodinamica abbiamo scongiurato il primo passo. Il pronto soccorso che sicuramente va potenziato. Però già da tempo giungono anche voci su quello che è il funzionamento del laboratorio analisi che potrebbe aprire soltanto agli interni se non potenziamo il personale. Il laboratorio analisi è un punto che porta attività anche all'esterno di questa nostra realtà. quindi va assolutamente potenziato. E poi, in modo particolare, vanno seguiti tutti quei settori che sono stati esternalizzati. Ce ne sono tanti che noi dovremmo recuperare al pubblico, ma in modo particolare, quando anche non fosse, stare con gli occhi attenti.